Gentili telespettatori, buona giornata. Luce e gas raddoppiano in molte zone d'Italia. I caro prezzi. Vediamo in quale città è peggio rispetto ad altre. In tre città il maggior aumento per i costi. Vediamo adesso la classifica città per città. Il Trentino è la regione più cara d'Italia, in particolare Bolzano, più 112,9% l'incremento dei prezzi. Trento più 109,2% vuol dire oltre il doppio. Con la comparsata di Lodi, più 79,8%. Sono le tre città italiane dove si è registrato il maggior aumento per i costi di luce e gas. A Catania abbiamo un 11,1% in più. A Imperia 11%, a Sassari 10%. Invece si sono registrati i maggiori incrementi di prezzi per gli alimentari. Catania, Imperia, Sassari. Beh, l'inflazione sta andando quasi a doppia cifra. Lo studio dell'Unione Nazionale e Consumatori non lascia dubbi. Due voci nel paniere di questo studio. Cibo e bevande e luce e gas. A guidare l'acqua slifica quindi è Catania, dove per cibo e bevande si registra un rialzo dell'11,1% rispetto a un anno fa. Più 643 euro in termini di aumento del costo della vita per una famiglia media all'anno. In questo contesto il secondo posto tocca a Imperia. Imperia registra un più 11%, dove all'anno ci sono di spesa media in più per una famiglia 589 euro. Al terzo posto abbiamo Sassari con più 10%, seguito da Palermo più 9,9%, Teramo più 9,6%, Cosenza più 9,5%, In settima posizione Ascoli Piceno più 9,3%. Segue poi Trento, Gorizia, Pescara, Messina, tutte con un incremento del più 9,2%. Sul fronte alimentare la città più risparmiosa per mangiare e bere è Milano, dove i prezzi sono cresciuti solo del 4,7%, seguito da Mantua 5% e Como 5,2%. Perché? Perché a Milano i prezzi erano già alti, erano già stati messi alti, quindi quando ci sono stati gli aumenti i prezzi erano già alti e li hanno fatti aumentare di poco. Questo è il problema. Chiamiamola speculazione, chiamiamola che i prezzi erano già a un certo livello, con gli aumenti chi metteva già quei prezzi ha detto beh non posso alzarli più di tanto, erano già alzati artificiosamente, li alzo di un pochino. Questa è la spiegazione. Mentre a Palermo, Messina, Cosenza, tutte queste città del sud, Ascoli Piceno, erano prezzi già molto bassi, che a volte erano con dei guadagni minimi i prezzi di vendita, questa volta con gli aumenti non c'è stato niente da fare, hanno dovuto realmente aumentarlo di quello che è aumentato. Non so se ce lo sono riuscito a spiegarmi sufficientemente bene sul perché a Milano gli aumenti sono più piccoli di Ascoli Piceno perché a Milano i prezzi erano già abbastanza alti in maniera artificiosa. Poi parlando di energia elettrica e gas e altri combustibili, gas, gasolio, riscaldamento, combustibili solidi, allora vediamo la classifica dei cittadini più tartassati, risvetta Bolzano, dove le spese per luce e gas sono salite del 112,9%, cioè il doppio più del doppio. Trento più 109,2, il doppio. Poi abbiamo Lodi, solo più 79,8%. Seguono tutte città della Lombardia, dove sono palesi ed evidenti speculazioni maggiori che altrove. Milano più 78,2%, Varese più 78,1%, Cremona più 77,4%, Lecco al settimo posto con più 76,8%, Bergamo più 76,6%, Brescia e Mantova entrambe a più 76,5%, Pavia più 76,4%, Como più 76,2%. Le città meno svantaggiate sono Sassari, più 51,6%, Reggio Calabria più 52,1%, Cagliari e Napoli più 53,2% per entrambi. Come vi dicevo, al nord i prezzi sono dati dalla speculazione, in maniera diversa da quella che vi raccontavo prima per gas e luce. Poi abbiamo le regioni più costose. Con un'inflazione annua al 9%, il Trentino Alto Adige registra un aggravio a famiglia di 2339 euro su base annua. Segue la Lombardia, dove la crescita dei prezzi è del 6,6% e implica un'impennata del costo della vita pari a 1715 euro. Terza, l'Emilia Romagna con più 7%, con un rincaro annuo, no, allora abbiamo sbagliato, la Lombardia è più 7,6%, l'Emilia Romagna più 7% con un rincaro annuo di 1665 euro. L'inflazione raggiunge a maggio il livello più alto degli ultimi 32 anni. Rappresenta una vera e propria sciagura e deve portare il governo ad adottare provvedimenti urgenti a tutte le famiglie, ha affermato a suo utenti. Ovviamente il governo con l'inflazione al 7% incassa più tasse, più IVA. È tutto in proporzione. I prezzi aumentano e in proporzione entrano più soldi. I prezzi dei prodotti alimentari registrano a maggio un'impennata record, aumentando del 7,4% rispetto allo scorso anno, l'1,2% in un solo mese. Questo significa che una famiglia solo per mangiare deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a più 550 euro annui. Quindi un 50 euro al mese in più per mangiare a parità di quello che comprava prima, cioè comprando le stesse cose che comprava prima, si spende 50 euro in più al mese. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti. Arrivederci. A presto. Ricordatevi che poi questi video sono condivisi su Teleitalia Seconda Rete. Arrivederci e grazie. Grazie a tutti.